A proposito di organi maltrattati, avere il colesterolo troppo alto, soprattutto l'LDL, quello cattivo, oppure il diabete, oppure la pressione alta, sono tutti fattori di rischio per l'infarto. Eppure gli studi hanno dimostrato che una certa fetta di infartuati, il 20%, questi fattori di rischio proprio non li aveva. Benvenuto al professor Francesco Prati. Professore, benvenuto ad Ippocrate. Voi state facendo come Centro per la lotta contro l'infarto uno studio, uno studio molto importante proprio per capire il perché queste persone che apparentemente non dovevano avere l'infarto invece poi... Sì, lo studio si chiama Opposite, uno studio che portiamo avanti insieme anche alla Fondazione per il tuo cuore. La nostra, il Centro per la lotta contro l'infarto, ha proprio sviluppato il desiderio, l'interesse di andare a capire a fondo le ragioni per le quali certi soggetti vanno incontro all'infarto. Questa è una grande scommessa della cardiologia. I fattori di rischio, intendiamo, ci sono una importantissima conquista della cardiologia moderna. Sapere che chi ha il colesterolo alto ha un rischio di infarto più alto, ovviamente, è un'informazione estremamente preziosa, analogamente si può dire per l'ipertensione o d'altro. Però voi dovete capire perché gli altri poi vanno incontro ad un infarto oppure non avendo questo. Oppure anche per quale motivo tanti soggetti che invece hanno tanti fattori di rischio hanno la fortuna di non andare incontro all'infarto, anche vero e contrario. Questo è un altro mistero. Professore, voi peraltro utilizzate anche un'apparecchiatura molto particolare che vi aiuta in questo vostro percorso. Sì, si chiama OCT, un nome complicato, Optical Curious Tomography. È una tecnica fortemente innovativa. In pratica lo studio è un disegno molto originale. Andiamo a studiare dei pazienti che hanno le arterie del cuore ammalate ma che appartengono a due famiglie diverse. Alcuni soggetti che hanno una recidiva infartuale, quindi una grossa propensione all'infarto e dall'altra parte invece soggetti molto stabili in cui l'infarto non si verifica, che hanno danni, dolori al petto ma non l'infarto. Bene, in questi soggetti andiamo a studiare le arterie del cuore con questa sondina nuova che permette di studiare le arterie con un'altissima definizione, dando delle informazioni che sono simili a quelle che un tempo solamente un anatomopatologo ci poteva dare. Aprendo quindi. Aprendo e soprattutto ovviamente non persano più in vita. Certo. E assieme agli esami di laboratori innovativi possiamo insomma capirne di più ed arrivare probabilmente ad avere delle acquisizioni nuove sulle cause dell'infarto. O sulle cause dell'infarto ma anche predittive reali dell'infarto oppure anche per mettere a punto nuove cure. Professor Prati? Beh, io credo che una volta che si capiscano bene e si mettono assieme dei tasselli per arrivare a capire meglio i meccanismi, poi si possono anche mettere a punto delle cure. Il nostro desiderio in futuro sarebbe un po' quello di personalizzare la terapia e la prevenzione dell'infarto. È possibile che alcuni pazienti hanno bisogno di un farmaco e altri di un altro. Per poter fare questo dobbiamo capire bene qual è quella catena di eventi che porta all'infarto che verosimilmente differisce da un soggetto all'altro. Abbiamo parlato, professor Prati, di fattori di rischio. Le elencavo prima. E però ci andrebbe messo anche probabilmente il fumo di sigaretta, l'abuso di alcolici, di superalcolici, uno stile di vita sedentario, abbuffarsi al tavola, insomma avere una iperalimentazione. Sono tutti i fattori di rischio questi che sono già direttamente controllabili da noi, se volessimo. A parte la familiarità, che purtroppo ce la teniamo, però fumare dell'eterio, il colesterolo va curato, la pressione e il diabete anche. Ed anche mangiare tanto e la pancia sono ovviamente dei fattori molto importanti. Relativamente all'alcol va fatta una precisazione, che un bicchiere di vino rosso al giorno fa bene, non fa male per il cuore. Berne troppo fa male per il fegato. E poi il vino, con i trigliceridi, può far ingrassare. Però in linea di massima, ecco, questo è un messaggio che possiamo dare. Soprattutto i superalcolici, insomma, andrebbero tenuti a bada, diciamo. Non bisogna esagerare. Come abbiamo detto prima, per quel che riguardava il fegato, Professor Prati, sono più gli uomini o le donne candidabili a questo vostro studio? E in prospettiva, diciamo, noi sappiamo che le donne sono un po' più protette fino alla menopausa e però poi recuperano con gli interessi, eh? Tutte e due, proprio perché le donne recuperano con gli interessi. Quindi noi vogliamo studiare gli uomini e le donne, capire se nelle donne il meccanismo dell'infarto possa essere diverso da quello dell'uomo. E in uno studio che abbiamo condotto recentemente, pubblicato, insieme alla Cattolica, abbiamo visto, per esempio, che in alcuni tipi di placche, che sono quelle meno cattive, con meno colesterolo superficiale, c'è prevalentemente un meccanismo infiammatorio a causare l'infarto. Ecco, questo lo possiamo rivedere nello studio Opposite e capire bene se magari nelle donne, in cui questo secondo meccanismo può essere prevalente, le cose vanno differentemente rispetto agli uomini. Come dicevamo prima, alla fine ci piacerebbe molto poter arrivare, nei prossimi anni, a fare una prevenzione diversa, a seconda magari del sesso e anche di qualche caratteristica individuale. Basta però, professore, spegnere questa infiammazione, per così dire, per evitare il rischio di avere un infarto? Non sempre e non in tutti i casi, perché l'infiammazione, si è vista da tanti studi pubblicati nell'ultima decada, è una, possiamo dire, causa importante, ma ci sono anche infarti, forse il 50%, che si verificano senza un processo infiammatorio nell'arteria del cuore. Quindi anche qui dobbiamo capire esattamente qual è il peso, qual è il ruolo, che esercita l'infiammazione nella genesi appunto dell'occlusione dell'arteria, che è la causa dell'infarto. Grazie a professore Prati, che è venuto a trovarci qui ad Ippocrate, che dobbiamo chiudere, ipocratechiocciolarai.it oppure www.rainews24.it, con la nostra piccola enciclopedia online, queste altre puntate, se volete vederle, io vi aspetto il lunedì alle 10.30, suggerire Parlamento con articolo 32, sabato prossimo, a mezzogiorno, qui su Rai News torna Ippocrate, il diritto alla salute. Ciao. Ciao.